In questa intervista Giuliano Sanna, assessore comunale all'ambiente, traccia il bilancio dei primi tre mesi di rimodulazione del servizio di raccolta differenziata nel comune di Nuoro. Oggi per fare un primo bilancio, per valutare un po' la situazione, siamo abbastanza soddisfatti del lavoro svolto. È chiaro che, come accennavi giustamente, senza gli adeguati controlli, anche il cambiamento delle abitudini dei cittadini avviene in modo molto complicato. È per questo che abbiamo cercato di mettere a punto, attraverso la collaborazione della Polizia Municipale e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, un sistema di controlli con fototrapole di alcuni siti, di vari siti per la verità, intorno alla città, oggetto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Come è andata? Avete trovato delle persone? Sì, sono state già combinate diverse sanzioni, altre sono in fase di elaborazione. Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, molto meno del comportamento di alcuni cittadini.